Buongiorno a tutti, sono Francesco Napoleoni, tenore. Ringrazio gli amici del Festival Pucciniano e Musicarte per avermi invitato a parlare un po' del maestro Giacomo Puccini e del mio regame artistico con il grande compositore. Per me parlare di Puccini è molto emozionante, ma da una parte anche semplice, in quanto fu il primo compositore che ascoltai. Ricordo avevo forse 5-6 anni e ascoltai come prima romanza e l'uscina delle stelle dalla Tosca. E poi la prima opera che acquistai fu proprio sempre di Puccini e la Manollesco. Prima di questo acquisto ricordo che prendevo in prestito qualcosa da qualche amico che aveva qualche genitore appassionato, perché era un po' insolito che un bambino all'elementario, in primi anni delle medie, magari seguisse o ascoltasse l'opera lirica. Però il primo acquisto fu quello della Manollesco. Posso ammettere che ascolto più spesso musica sinfonica che opera lirica, ascolto più Beethoven, Mahler, Brahms che opera, però grazie a Puccini, cioè con Puccini trovo un legame molto forte con la sinfonica. Infatti a partire dalla Manollesco in poi, volendo, possiamo anche ascoltare le opere di Puccini come fossero partiture sinfoniche. Mi capita ogni tanto di dire ma potrebbero anche non cantare in questa circostanza, in questa fase, perché è talmente grande e vera la musica, piena di emozioni, che basterebbe. Poi è chiaro che con un grande interprete o con dei grandissimi interpreti l'esecuzione diventa un capolavoro, chiaramente. Per quanto riguarda il mio discorso professionale di lavoro con Puccini, io entrai nell'Accademia Pucciniana a Torre del Lago nel 2016 e seguendo le lezioni del maestro Claudio Ottino, le masterclass della Cedolins, Fiorenza Cedolins, e del maestro Roberto Scandiuzzi. Feci un percorso abbastanza lungo, con molti concerti, e l'estate del 2016 come primo ruolo cantare i Parpignol nella Bohème di Giacomo Puccini. Il 2016 fu un anno pieno per me e che mi portò spesso con Puccini, perché nell'autunno seguente feci il Mascagni Opera Studio a Livorno. Quell'anno, per il 7 dicembre a Livorno, era in programma il Tabarro di Giacomo Puccini e la Lodoletta di Mascagni. Io segui un corso abbastanza lungo di prove e alla fine, con coraggio, perché ovviamente un interpedeurolo molto difficile, cantare i ruoli di Luigi nel Tabarro. Fu un'esperienza grande, per me importante, perché mi misurai appunto con un ruolo più alto di me, e quindi in un modo o in un altro provai a risolvere i punti più difficili per essere credibile. Però questo mi fece capire dove potessi dirigermi realmente nel repertorio pucciniano, quale potesse essere il mio repertorio adatto, credibile, a livello proprio professionale. E quindi, grazie al cielo, insomma, Puccini ha scritto tanti nelle sue opere, molto per la corda tenorile, anche per i ruoli secondari. Secondari è brutto dirlo perché è un comprimariato sempre di rilievo in Puccini. Se penso al Ponga, al Pang in Turandotte, lo Spoletta, il Goro, l'Edmondo e tanti altri ruoli, il Venditore di Canzonette, il Tinca, appunto, sempre nel Tabarro. E molti di questi ruoli ho avuto l'opportunità di cantarne nel grande teatro a Torre del Lago in queste ultime quattro stagioni. Sono state esperienze molto grandi, importanti. Ci tengo a ricordarne una. Nel 2018 cantai Spoletta in Tosca con la regia del maestro Giancarlo del Monaco. Mi piace ricordarlo un attimo, parlare del maestro del Monaco, perché mi insegnò molto. Lui furono prove molto intense e cercava di... mi aiutava a togliere, a togliere il superfluo. Questo è importante non solo per un cantante, è importante per un attore, ma è importante anche nella vita in generale. Cioè togliere tutto quello che poi non serva a nulla per arrivare al succo della cosa. E quindi per avere forza scenica, per dare un messaggio forte, mi invitava a fare il meno possibile, ma con energia, anche attraverso uno sguardo. E questo fu molto importante e me lo ritrovo. Poi oggi, anche quando studio altre partiture o quando affronto altri ruoli. E questo è molto importante. Non posso non parlare, come ultima cosa, ci tengo però a dire che nel 2016 io incontrai Beatrice al Torre dell'Agua al Festival Puccini, che è diventata mia moglie l'anno seguente. Deppone è un soprano e ha avuto l'opportunità di cantare con il Festival in diverse occasioni per il Centenario della Rondine, per il Trittico, in Suora Angelica, in Butterfly. Quindi abbiamo anche condiviso insieme al Parco Scenico. e nel 2019, l'anno scorso, è nato nostro figlio Giacomo. Mi viene da sorridere perché durante una cena mia moglie mi disse ma perché non chiamarlo Giacomo? Pensavamo al nome. E io ovviamente, la mia risposta fu subito positiva, perché la mente mi portò subito al luogo del nostro incontro, insomma, al Torre dell'Agua, e quindi il legame con il maestro Giacomo Puccini. L'anno scorso Giacomo è già stato in teatro con me, nella Tosca, aveva appena due mesi, e quest'estate sono molto contento di riportarlo, di tornare al lavoro, perché canterò Goro nella Butterfly. Veniamo tutti da un momento difficile, è inutile dirlo qui perché lo sappiamo talmente bene che è così, ma è molto importante questo messaggio di ripartenza che ha mandato il Festival Puccini, che io ringrazio e che spero che possa stimolare, e incentivare tutti gli altri festival, enti, fondazioni, teatri, a andare avanti, andare avanti e dare un messaggio di ripartenza concreto per noi, per tutti gli artisti, per la cultura e per l'arte. Ecco, vi invito al prossimo festival, per la Butterfly, ma anche per la Tosca, che ci sarà al festival dopo l'inaugurazione avuta con il Gianni Schicchi. Vi mando un caro saluto a tutti quanti e a presto, grazie ancora.